La situazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si fa sempre più spinosa e delicata. Genitori innamorati a luglio amore impreziosito dalla nascita della piccola Luna Marie. Oggi i due sono lontani, distanti e in crisi. Nessuna conferma dai diretti interessati. Ma pochi dubbi sulla questione. Anche perché l'insofferenza dell'air stylist è trapelata a più riprese negli ultimi giorni sui social. Diversi infatti gli indizi seminati dal medesimo Spinalbese. Nelle scorse ore quello più controverso. Su Instagram il giovane ha fatto intendere di avere trascorso un sabato sera in solitaria. A fargli compagnia una bottiglia di... A colpire però è stata una risposta che ha dato a un fan che ha criticato duramente lui e Belen. Poveri figli. Ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera. Questo il commento durissimo di un fan. A spiazzare ancor più. Però... È stata la risposta di Antonino. Lo penso anche io. Che cosa ha voluto dire il giovane? Che dietro a una tale replica si cieli una pesante presa di posizione contro Belen? Non è la prima volta che di recente l'air stylist fa emergere esternazioni criptiche. Che si prestano a interpretazioni che possono spingere a pensare che tra lui e la Rodriguez tiri aria di burrasca anche per quel che riguarda la gestione della piccola Luna Marie.